Diego Mingioni, possiamo fare il punto della situazione di un campionato che ormai ha superato i tre quarti del suo cammino, ci avviamo addirittura al finale, alla volata finale, dicevamo prima della trasferta di Nuoro che bisognava trovare gli stimoli per affrontare queste partite visto che la squadra ormai eventualmente è salva e quasi certamente non si faranno i playoff, a Nuoro questi stimoli purtroppo non è riuscito a trovare? La trasferta di Nuoro era stata preparata di certo per fare un altro tipo di partita, gli stimoli ci dovevano essere, ce li siamo anche detti, gli stimoli di andare a affrontare una società storica in Sardegna, in uno stadio che ha visto calcio e soprattutto per giocare una partita che poteva farti fare un piccolo balzo in avanti in classifica, anche in vista comunque delle altre partite che si sarebbero giocate in contemporanea come per esempio la parita del latte dolce che sapevamo che avrebbe giocato una parita contro la Villa Cidrese con degli squalificati e quindi anche in ottica di una possibile riapertura del discorso playoff sai noi ci siamo detti che sarebbe stato sicuramente bello vincere la partita per poter ipotizzare una riapertura del discorso playoff, poi la partita è andata in un'altra direzione, in un altro senso, abbiamo completamente sbagliato il tipo di partita rispetto ai presupposti iniziali, rispetto agli stimoli che ci dovevano essere, quindi è stata una partita dove dove ormai abbiamo fatto una delle più brutte prestazioni della stagione, non parlo tanto della sconfitta ma proprio come prestazione abbiamo fatto una prestazione al di sotto sicuramente dei nostri standard ma sotto tutti i punti di vista, sia sotto il punto di vista della qualità, dell'atteggiamento, dell'agonismo l'abbiamo persa veramente in tutti i sensi quindi dispiace perché comunque io speravo che si potesse dare continuità alla parità di Bosa, così non è stato e quindi bisogna ultimamente ripartire e riavvolgere il nastro Ecco, riavvolgere il nastro, forse è una pasta di riflessione, Giugio Appuntino? La cosa sicura è che stiamo approfittando questa settimana per lavorare un pochettino più, in una maniera più intensa, abbiamo fatto allenamento sia ieri sia oggi, direi che sono stati due buoni allenamenti con buona intensità, con un buon impegno e poi comunque ne abbiamo approfittato anche per fare un po' il punto della situazione anche noi dentro lo spogliatoio, anche con i ragazzi per capire quali potessero essere gli stimoli e comunque le riflessioni da fare da qui a fine campionato Poi la pausa è piccola e breve perché poi mercoledì andiamo a Budoni, è una parità che già di per sé non dovrebbe dare, non c'è bisogno di caricarlo, di dare grossa spinta motivazionale perché chiaramente va a affrontare la prima in classifica Ma soprattutto c'è il ricordo di quel 14 gennaio La squadra che ha vinto la Coppa Italia e quindi è una partita dove gli stimoli penso che siano abbastanza scontati e sentiti, poi fa piacere affrontare il Budoni, fa piacere sfidarlo e possibilmente batterlo Il Budoni che è in casa è un ruolo compressore, però dopo quel 14 gennaio al ritorno in campo l'ha persa una partita in casa con Calangiaros, quindi non è imbattibile insomma Si, ha perso la prima partita subito dopo la Coppa, subito dopo tre giorni dalla vittoria della Coppa È una squadra solida, ho visto anche la partita che hanno giocato la Nuorese, proprio per preparare la partita con la Nuorese ho visto quella partita, è una partita che hanno vinto 2-0 gestendo, controllando abbastanza la partita e comunque nelle corde del Budoni di saper gestire questo tipo di partito e comunque dare sempre prove di solidità e di maturità Noi l'abbiamo affrontata già due volte tra Coppa e Campionato, l'abbiamo messa secondo me in grossa difficoltà, tant'è che nelle due partite siamo stati rimontati entrambe le volte all'ultimo quindi penso sia una parità alla pari, ma ciò che conta poi è l'atteggiamento e loro chiaramente vorranno mettere un'altra mattonella per il campionato e noi se andiamo moci e sbagliamo approccio e giochiamo una parità sotto tono penso che riusciremo con l'ossarote ma penso che siamo anche in grado di far vedere l'altra faccia del carbone che è quella di una squadra viva, intensa, organizzata, solida e unita, quindi San Fiduccioni Non so se ricordi, precampionato, in preparazione, parlando del Budoni, tu mi dicesti, noi siamo una squadra di giovani, allora non era questo il carbone, era ancora da completare siamo una squadra di giovani, loro sono una squadra, una corazzata, li vedremo quando verranno qua a sesta, terranno il nostro passo soprattutto nella corsa diciamo fosti il buon profeta o no? Ripeto, noi li abbiamo affrontati due volte, una volta in campionato eravamo avanti 1-0 giocando una grande partita creandogli grosse difficoltà in grossi tratti della partita E quella palla di Gabriele Dora al 96esimo che ancora Abbiamo preso gol su fallo laterale all'88esimo, abbiamo avuto una palla colossale per andare in vantaggio da 1 all'ultimo secondo La finale di Coppa è una partita che stavamo vincendo fino al 122esimo, quindi bene o male abbiamo dimostrato che sappiamo dargli fastidio Anzi, entrambe le volte la squadra forse che avrebbe meritato che comunque era avanti anche nel punteggio fino all'ultimo siamo stati noi Poi non l'abbiamo vinto ma... Li avete messi in difficoltà grossa due volte, avete vinto con grande merito a Sassari Diciamo qualche piccolo rammarico, perché è qualcosa in più che potrebbe essere ancora questo campionato e che pur rimane con un bilancio positivo Ma il ramarico no, perché comunque io penso che siamo questi, nel senso è una squadra giovane e nella sua giovane età porta dentro dei pro e dei contro Il fatto che comunque nelle grandi partite hai sempre fatto grandi prestazioni e invece con le squadre che lottano per non retrocedere hai sempre fatto delle prestazioni un po' sottotono Penso che abbia un motivo questo dato qua Ma cosa ti manca insomma? Sì, ma penso dal punto di vista più che altro mentale, caratteriale Anche perché dal punto di vista delle esigenze tattiche della partita sono due tipi di gare completamente differenti Un conto è quando vai a giocare contro il Buduoli, un conto è quando vai a giocare contro la Nuorese Anche per quanto riguarda gli spazi, l'atteggiamento difensivo dell'altra squadra cambia Quindi vuol dire che contro queste squadre come la Nuorese ci serve più pazienza, serve controllare anche il tempo Capire che è una partita che puoi vincere, devi vincere in 90 minuti Non per forza la devi sbloccare subito ma ci vuole pazienza Devi capitalizzare gli episodi, devi portarteli a tuo favore Con pazienza e con spirito anche di sacrificio Questo sicuramente ci è mancato e ci sta mancando sicuramente Ma poi affrontare, ripeto, le altre squadre come Budonica, voi, Latte Dolce, Sant'Eodoro Non è perso, contro queste squadre qua non è perso Quindi siamo questi e dobbiamo crescere in questo senso qua Diego, che dobbiamo vincere in campionato? Secondo me Latte Dolce Secondo me Latte Dolce perché l'aver vinto la parità con la Villacidres con tre squalificati Sono tre giocatori importantissimi per Latte Dolce Penso sia stato un segnale, un grosso segnale Non è un caso che abbiano vinto e non è un caso che... Hai vinto bene? Penso che dalla sconfitta col Budoni e con il fatto degli squalificati Penso che possano uscire ancora più forti proprio come squadra, come unione E come stimoli probabilmente per il futuro Quindi io dico Latte Dolce Magari cominciano a dargli una mano da mercoledì prossimo Sì ma noi potremmo dargli una mano a mercoledì prossimo Il problema è che poi verranno loro anche qua Quindi dovremmo dare una mano al Budoni Ma noi pensiamo a noi, non dobbiamo aiutare nessuno Semplicemente dobbiamo aiutare noi stessi nel fare delle belle prestazioni E possibilmente nel vincere E poi, ripeto, dico che secondo me vince Latte Dolce Ma per un discorso puramente di andamento di queste partite Per il fatto che hanno vinto una parità delicatissima come quella con la Villacidresi